Buonasera mister, con tutti gli alibi che può avere, ha preparato questa partita naturalmente in tre giorni, ho ascoltato anche le sue dichiarazioni ad Asone Sky, ci si aspettava però di vedere qualcosa di diverso sia nel carattere, e lei non ha la bacchetta magica, sia però dal punto di vista anche tattico, le chiedo come mai ha lasciato inalterato lo scacchiere rispetto al suo predecessore, visto che insomma in precedenza delle certezze non ce n'erano tante, e poi come giudica in questo momento di grande difficoltà l'uscita dal campo di Lassana Colibali che ha deciso di non dare la mano al compagno né a lei e di infilarsi dritto negli spogliatoi, grazie. Allora, sotto il profilo della questione tattica credo, noi abbiamo fatto il primo allenamento lunedì, con qualche giocatore doveva recuperare, quindi abbiamo fatto tre allenamenti, andare a toccare qualcosa in questo momento dove già avevamo grandi difficoltà proprio di numerici e anche di ruoli nella partita e non avendo il tempo anche di provare qualcosa di diverso, abbiamo cercato di dare mediamente lo stesso serenità ai giocatori di qualcosa che già conoscevano. Non mi aspettavo sicuramente questo come approccio, le difficoltà sì, l'approccio sicuramente per me era da capire della squadra, di giocatori, se oggi no ci troviamo qui e io sono il terzo allenatore, probabilmente qualche laguna l'abbiamo. Mi sono fatto qualche idea da qui a domenica che ripartiamo con gli allenamenti, ci troviamo in una situazione in cui oggi per me non posso più aspettare qualcuno, quindi chi dalla domenica al venerdì avrà quella fame, quella cattiveria, quella voglia di poter anche credere ad una minimissima possibilità di fare qualcosa si prenderà la maglia, quindi la settimana sicuramente farà la formazione da qui alla fine. Sotto Coulibaly credo che è un professionista grande, domenica quando riprendiamo gli allenamenti ne parleremo, capiremo il motivo del suo gesto e poi decideremo se c'è da intervenire o no. Non è una cosa grave per me, quindi voglio ascoltare quello che è stato il suo pensiero, però credo che forse ci dobbiamo concentrare su quello che poi si fa sul campo più che per quello che si fa fuori dal campo. Diceva di aver avuto poco tempo per poter cambiare in corso d'opera, poco tempo per adattarsi a un modulo nuovo, però la Salernitana nel dover conservare delle cose si è presentata comunque con delle pedine in alcune posizioni diverse rispetto al passato, mi riferisco e quindi se può spiegarci i motivi della scelta a Candreva che di sicuro non giocava a mezz'ala fin qui e Beisman alla prima occasione aveva realizzato un gol, lei aveva detto di voler cercare l'equilibrio tattico ma anche di riempire l'aria, ci è sembrato un dia piuttosto solo, la Salernitana non le vado a riprendere i numeri, 16 a 0 nel primo tempo, 21 a 1 come ti rimporta, 18 calci d'angole a 0, queste sono cose che poi rivedrà a lei ma certificano una superiorità che è evidente nel risultato, però le chiedo di motivarmi questo da un punto di vista tattico e poi se ci aiuta anche a ricostruire la settimana di Boateng che ce l'ha sembrato fermo, in difficoltà, è stato gestito, poi è uscito per un problema che è subentrato o un problema che avete provato a gestire, mister? Grazie. Allora, tatticamente credo che la squadra ha giocato con Ciaunà che è un attaccante, Dià che è un altro attaccante e Candreva che in fase di non possesso doveva dare un'occhiata da interno di destra e in fase di possesso si doveva alzare per essere insieme a Dià il secondo trequartista dietro a Ciaunà, credo che Ciaunà, Dià, Candreva a San Siro con l'Inter possano essere dei giocatori abbastanza offensivi, ma io non credo che sia quanti offensivi e come giocare e come non giocare, quindi mediamente credo di aver toccato molto poco. Sulla questione di Boateng, Boateng ha fatto un allenamento, mezzo allenamento lunedì, dopodiché ha fatto solo differenziato e oggi non avrebbe dovuto giocare. Manolas che aveva fatto un pochino gli allenamenti con la squadra, aveva fatto totalmente con la squadra, questa notte ha avuto un problema e quindi abbiamo perso anche Manolas. Per poter cambiare, idealmente giocare, uno deve anche avere l'idea di non dover sprecare cambi. Boateng era un cambio sicuro e così è stato, se avesse giocato Manolas probabilmente era un cambio sicuro e quindi dietro la coperta era inevitabilmente corta. Ma a prescindere i numeri, credo che quello che oggi deve far riflettere a me soprattutto, al mio staff, è proprio l'atteggiamento della partita. Perché a Milano con l'Inter si poteva perdere, ma non si può perdere tutti i duelli. Una squadra che lotta come noi, siamo in fondo alla classifica, ha cambiato tre allenatori, non possiamo perdere tutti i duelli. Oggi credo che la squadra, a livello mentale, fisico, ha dimostrato di essere una squadra che va dietro agli eventi, non vuole cambiare gli eventi. E noi dobbiamo lavorare per far sì che non dobbiamo seguire l'evento. L'Inter avrebbe vinto la partita probabilmente allo stesso modo, ma non consegnagliela. Gliela abbiamo consegnata. E questo non può più succedere. Ecco perché ti dico che probabilmente sabato non la faccio io la formazione. La fanno loro. Chi da domenica a venerdì va a 200 all'ora e fa i buchi per terra e c'ha fame e gioca. E chi non ce l'ha non può giocare. Non sarò io che farò la formazione. Saranno loro da qui alla fine. Perché non ho né la possibilità né il tempo di poter coccolare, aiutare. Io posso supportare. Posso allenare e supportare. Ma c'è bisogno di un segnale di chi vuole fare. Anche magari se sulla carta è un po' meno degli altri. Sulla carta. Perché poi c'è il campo. E noi oggi, se siamo la Salernitana, probabilmente siamo meno di tutti. Perché abbiamo 13 punti. Quindi questo è assodato. È dimostrato. Quello che parla è il campo. Noi dobbiamo far parlare solo il campo. La domanda qui chiudiamo. Fabio, buonasera. Carlo Bianchi di TercerTiempo.es. A questo punto, proprio in virtù di quello che ci hai detto, ci sarà un confronto anche con Sabatini. Quanto è importante la presenza del direttore sportivo, proprio in questi momenti di difficoltà? Tanto per dare un supporto anche all'allenatore. Il direttore c'è. Il direttore dà supporto. Io credo che dovremmo avere la sua stessa forza. La sua stessa voglia. Di fare qualcosa di straordinario. In questo momento i ragazzi sono in una difficoltà sicuramente mentale. Io capisco che la situazione non è sicuramente idonea. Però ci siamo andati noi e noi da soli ci dobbiamo tirare fuori. Dobbiamo provare il modo di fare qualcosa di diverso. Ti ripeto, di diverso vuol dire principalmente di voglia, di fame, di cattiveria. Anche un'ammunizione, anche una botta. Oggi il brutto è stato questo. E noi dobbiamo cercare in qualche modo di farlo. La città, chiudiamo. Mister, riavvolgendo anche il nastro a quello che è stato poi la conferenza stampa di lunedì e sentendo anche le sue parole, si sente tradito da questa squadra non per la prestazione ma per il carattere che non c'è stato. Per il primo il collega dava dei numeri, è stata davvero una bruttissima prestazione. Si sente tradito dalla squadra per atteggiamento perché almeno ci sta di perdere, lo sapevamo, ma non in questo modo. E poi guardando anche allo sguardo, gettando lo sguardo anche a quella che sarà la prossima partita, bisogna fare di necessità virtù. Innanzitutto Boateng, si fa chiarezza su quale è stata la motivazione del suo infortunio e se in vista della prossima partita con il Monza ci saranno dei recuperi. Pierozzi, Fazio, lo stesso Manolas, però raccontava prima che era soltanto un'indisposizione di questa notte. Ci saranno delle pedine in più dalle quali ripartire? Guarda, allora, tradito mi sembra una parola grande. Io sono con i ragazzi da tre giorni, quindi secondo me non è... ci tengo, no? Nel senso credo che la squadra sia nel bene che nel male. In tre giorni non c'è nessuno che cambia qualcosa. Questo è assodato. E quindi non mi sento tradito. Credo invece che la squadra abbia proprio delle difficoltà. abbia proprio, a livello mentale, abbia proprio, devo capire chi è in grado di poter dare e chi invece proprio è in una fase di down, tra virgolette, di, come si dice, appiattimento alla situazione. Cioè la situazione va e io vado insieme all'evento. Questo in due giorni, in tre giorni è difficile. Quindi devo capire questo e devo aiutarli e supportarli più psicologicamente, più mentalmente che tatticamente. Perché se la testa non va, poi tutto il resto è difficile. Diventa pesante, diventa un macigno. Quindi il lavoro sarà soprattutto mentale per capire i ragazzi, per capire chi ce la fa di più, chi di meno, chi è avvolto dall'evento. Sui recuperi, come ti ho detto, Manolas, obiettivamente credo che da domenica riprenda ad allenarsi. Buatenghe è una problematica che si sapeva, nel senso che è un ragazzo che non è attivo da più di sette mesi. E quindi non ha una struttura importante, ma non ha in questo momento una muscolatura che lo supporta. Ha dato disponibilità, lo ringrazio, ma sapevamo che era un cambio sicuro. Magari non pensavo così poco, ma non avevamo alternative a questo. Fazio credo che questa settimana possa piano piano capire se si può reintegrare. Spero di sì, insieme a Manolas e su Pierozzi e Pirola credo che ci sia ancora un po' di tempo. Ok, grazie. Grazie. Grazie.